Non c'è bisogno di dirlo, capito? Cioè, è ovvio che è una pezza sincerità, a protiche io dovrei tenerti, ma io lo ho fatto, io tenivo tutta il parte femminile che mi ha chiesto il numero e mi hanno detto non dire tutti i numeri, tutti i numeri di telefono, dici che sono 7 o 8, 7 o 8, ma 7 o 8 sono passate a 3, poi 3 ho visto che una era falsa, una era Fabio Volo dei Poveri e una è quella che è insomma, però è la migliore delle 3 diciamo fondamentalmente. Non è quella che è Maria, se lo puoi far riascoltare quel pezzettino, quel pezzettino, scusami, ma tu ti rendi conto di quello che dici, di come parte? È lo stesso audio che aveva contato ieri, bravissima, Maria è il contesto, è certo abbiamo litigato, quella è quella che è la migliore tra le tante, ma tu sei cosciente di quello che dici? No, no, avevamo litigato pesantemente quel frangente e quindi è uscito solo questo spessato, quella che è la migliore tra le tante, la migliore delle tante. Maria vai avanti, ma puoi sentire? Ah era solo questo? No, no, vabbè, è lungo. Grazie. 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 Grazie.